Aggiungiamo adesso delle altre funzioni alla nostra palla pazza, lo facciamo parlando di eventi, quindi possiamo parlare delle situazioni, quindi oltre alla bandierina verde cosa succede ad esempio quando premo un pulsante della tastiera e anche parlando un po' di linee, di traiettorie, di gradi, in modo tale che poi si può espandere il discorso a diverse materie. Poi è divertente perché poi i ragazzi si divertono a vedere le linee colorate, tracciate dalla palla. Per fare questa cosa, prima di tutto aggiungiamo l'estensione penna, per aggiungerla vi ricordo che clicchiamo su questo pulsante aggiungi in estensione e poi scegliamo penna. In penna troviamo pulisci, timbra, penna giù, penna su, porta colore a penna, cambia colore, porta, colore penna 50, quindi abbiamo due possibilità di porta colore penna, cambia dimensione penna e porta dimensione penna A, quindi possiamo aumentare lo spessore della penna. Ognuno di questi eventi noi lo possiamo controllare in vari modi, un modo molto semplice e che ci permette appunto di parlare di eventi, di situazioni, è proprio quello di associare gli eventi a dei pulsanti della tastiera. Allora riduco un attimo lo zoom, sposto, facciamo in questo modo. Allora, intanto partiamo dai blocchi pulisci, penna giù e penna su. Pulisci serve naturalmente per pulire il lavoro fatto, penna giù vogliamo iniziare a tracciare una linea alla palla, penna su invece smette di tracciare questa linea. Lasciamo stare intanto il discorso del colore. Allora, andiamo in situazioni, prendiamo il blocco quando si preme il tasto spazio, rifaccio uno zoom, in questo modo, quando si preme il tasto spazio, di solito associo il tasto spazio al pulisci, allora vado in penna e metto già il pulisci. Poi, andiamo di nuovo in situazioni, prendo di nuovo quando si preme il tasto spazio, a questo punto cambio il spazio in, ad esempio, G per lettera giù, che sta per giù. Torno in penna e prendo penna giù, in questo modo. Andiamo avanti ancora, situazioni, potremmo utilizzare la funzione duplica, ma mi piace fare questa cosa in modo tale che ripetiamo le varie, il metodo per farlo. Quindi, scegliamo la S per su e prendiamo penna su. Perfetto. A questo punto, io faccio partire la palla, premo sulla tastiera il tasto G e la palla inizia a tracciare una linea. Adesso premo il tasto S sulla tastiera e la palla smette di tracciare le linee. Ripremo il tasto G e riprende a tracciare. Premo il tasto S, smette. Voglio pulire, premo il tasto spazio. Ripremo la G, ripremo la S, premo la G, premo la S e così via. Fermiamo la palla e puliamo. Vedete che con questa successione di tasti, noi possiamo associare ad ogni evento un'azione. Quello che un po' succede quando i ragazzi o noi giochiamo con un videogioco o anche quando utilizziamo un programma, ad esempio di videoscrittura, piuttosto che un foglio di calcolo e così via. Ha dei tasti che possono essere fisici su una tastiera o pulsanti direttamente creati all'interno dello stage e possiamo associare un evento. Allora, proviamo, di solito io lascio poi da questo punto in poi lo spazio ai ragazzi di esplorare le altre funzionalità. Vi suggerisco in questo video comunque ad esempio delle soluzioni. Ad esempio, aumentare o diminuire la dimensione della penna. Lo possiamo fare con le frecce, le frecce cursore che abbiamo sulla tastiera e lo possiamo fare magari con la freccia di destra e la freccia di sinistra. Allora, prendiamo di nuovo situazioni. Questa volta usiamo il duplica. Scelgo, vado all'inizio e dico freccia di destra. Tasto destro, duplica. Il duplica, ve lo faccio rivedere. Ho fatto tasto destro, duplica. A questo punto scelgo freccia sinistra. Vado in penna. E scelgo, cambia, dove è qua? Cambia dimensione penna di uno. Tasto destro, duplica. Tasto destro, meno uno. Avrei potuto anche duplicare tutto assieme. Guardate, tolgo tutto. Tasto destro. Faccio il tasto destro sul blocco quando si preme il tasto freccia destra. Tasto destro, duplica. Mi si duplica tutto. A questo punto cambio in freccia sinistra. E gli dico meno uno. Quindi cosa succederà? Che quando premo il tasto freccia destra sulla mia tastiera, aumenterò la dimensione della penna di uno. Quando premo la freccia sinistra, cambierà di meno uno. Quindi aumenterà o diminuirà. Vi faccio vedere. Allora, premo il tasto G, la penna va giù. Premo la freccia di destra. E vedete che pian piano inizia a fare in questo modo. Se io ripremo il tasto freccia sinistra, diminuisce e torna al suo stato originale. Sposto la palla in questo modo. Puliamo. Ok. La penna, vedete che è ancora giù, perché io prima non l'ho riportata su. Premo la freccia di destra, aumento la dimensione. Poi vi faccio notare una cosa. A questo punto io tiro sulla penna con il tasto S. Rimetto giù la penna con il tasto G. E vedete che torna. Non è tornata la dimensione originale, ma è rimasta la dimensione che avevo aumentato. Vi faccio notare anche una cosa. Tiro sulla penna. Osservate quando io premo la freccia destra e la freccia sinistra. Vedo che l'evento si sta verificando perché i comandi diventano gialli, come vedete che sono evidenziati in questo modo. Anche le altre, se ci fate caso. Adesso io premo la freccia di destra, vedete che si illumina. Al di là che adesso la palla non ha la penna giù, quindi non scriverà nulla. Però man mano che premo la G, scusate, premo la freccia destra sulla tastiera, il controllo si illumina. Tanto è vero che se io premo il tasto G, ho la dimensione della penna più grande rispetto a prima. Pulisco, guardate cosa succede quando premo la freccia sinistra, si illumina e pian pianino torno a una dimensione inferiore. Naturalmente il problema qual è? Adesso se io faccio ripartire la palla, ho sempre il discorso di prima. Cioè fermo, pulisco, faccio ripartire, ho sempre la stessa dimensione. Allora, anche in questo caso io di solito consiglio ai ragazzi, dico ok, come facciamo a riportare tutte le dimensioni originali premendo un tasto? Allora, possiamo o utilizzare un altro tasto, potrebbe essere il tasto R per reset, quindi utilizzarlo per impostare tutto, diciamo impostazioni di fabbrica, usiamo questo termine, oppure potrebbe anche essere semplicemente uso il tasto spazio e quando pulisco ripristino tutto. A questo punto non uso la funzione cambia, ok, ma uso la funzione porta, quindi utilizzo questo blocco porta dimensione penna 1, quindi la dimensione iniziale. In questo modo quando io premo il tasto, allora vedete che la palla sta facendo una linea di questa dimensione, fermo, pulisco, faccio riportire la palla e la palla è ripartita con la dimensione 1, perché il porta porta la dimensione della penna alla dimensione che noi decidiamo. Altre cose che possiamo fare, ad esempio, possiamo usare il tasto timbra, una cosa che di solito i ragazzi si divertono un mondo. Allora, prendo di nuovo in situazioni quando si preme il tasto spazio, cambio spazio in T per ricordarmi che è il timbra, a questo punto vado in penna e prendo il tasto, premo il blocco timbra. Faccio, puliamo tutto con il tasto spazio, vedete che posso pulire anche senza che la palla si muova, faccio ripartire la palla e adesso premo il tasto T, guardate cosa succede, tac, si creano una sorta di clone, un clone in realtà che è tipo un'impronta, nel senso che non è un, affermo, non è un qualcosa di selezionabile, proprio la palla ha fatto un'impronta di se stessa nello stage, e un timbro, non è chiaramente manipolabile. Vedremo dopo, insomma, che è possibile lavorare su questa cosa, anche con una piccola evoluzione e quindi creare, ad esempio, più sprite, tenendo uno sprite solo, però creare dei cloni che si muovono all'interno del nostro stage. Un'ultima cosa che si può fare è, ad esempio, aumentare la velocità della palla. Per aumentare la velocità della palla possiamo usare due metodi. Il primo è quello di lasciare a scratch il tutto e utilizziamo la funzionalità attiva modalità turbo. Vi faccio vedere cosa succede, premo il tasto spazio per pulire, faccio, tengo, premo il tasto S in questo modo, sono sicuro che la penna è su, faccio partire la palla, la palla adesso si sta muovendo. Allora vado in modifica, attiva modalità turbo, vedete la palla che inizia a muoversi in maniera molto, molto veloce. Se premo il tasto G, questa è la cosa che piace tantissimo ai ragazzi, in pochi secondi la palla disegna una sorta di tappeto all'interno del nostro stage. Stoppiamo, puliamo. Per aumentare la velocità della palla in maniera non in questo modo, ma vogliamo essere come al solito noi i protagonisti e gestire la cosa, possiamo chiaramente aumentare la dimensione, scusate, il numero dei passi. Se noi da 10 la portiamo a 50, ripremo il tasto S, faccio ripartire, la palla va via più veloce, fermo, premo 100, scrivo 100, scusate, all'interno di fai passi, ripremo e vedete che la palla va via ancora più veloce, perché chiaramente è il numero dei passi, il numero dei punti all'interno del nostro piano cartesiano. Ripremo il tasto G, chiaramente non succede come attivando la modalità turbo, ma una cosa molto simile, se noi a questo punto aumentiamo ancora di più il numero dei passi, proviamo con 1000, vediamo cosa succede, vedete che adesso qua si è incastrata in questo loop, naturalmente la cosa poi può essere risolta con delle condizioni in modo tale che non si verificano cose di questo tipo, ma rimando ad altri video una risoluzione di questo tipo. Altro però, il problema vedete che è sempre quello, che se io scrivo, devo ogni volta o fermare, oppure posso anche mentre sta andando aumentare, perché io posso anche far partire la palla, entrare nello script, siccome intanto è un ciclo per sempre, posso modificare manualmente, il problema è che continuo a modificare manualmente. Allora potrebbe nascere l'esigenza di utilizzare dei tasti, tipo il freccia su, il freccia giù, per aumentare o diminuire la velocità della palla, quindi i passi. Per fare questo abbiamo però bisogno delle variabili. Per fare questa cosa, andiamo in variabili, questo è uno step successivo naturalmente, allora, Scratch ci presenta già una variabile creata, io di solito, nelle versioni precedenti invece, non la troviamo già creata, ma dovremmo cliccare su crea una variabile, se clicchiamo qui, scriviamo, possiamo tranquillamente anche scrivere con lettere accentate, se fossimo in altri linguaggi sarebbe da evitare, ma in questo caso usiamo tranquillamente velocità, abbiamo una velocità, anche qui, se vi ricordate prima, nei video precedenti, vi dicevo che, di solito definisco, all'inizio del programma, quali sono le opzioni che deve avere il nostro sprite, la velocità, quando la devo settare, la devo impostare all'inizio, quando faccio partire il giochino, quando faccio partire la palla, cioè quando premo la bandiera verde, allora, posso usare, anche qui vedete che abbiamo gli stessi concetti, che avevamo con la dimensione della penna, cambia dimensione e porta dimensione, cambia la mia variabile, cambierà la variabile, il valore della variabile, con porta invece, andrà a portare il valore della variabile, a quello che decideremo noi. Ok, allora, facciamo in questo modo, prendiamo come al solito i tasti, quando si preme il tasto, a questo punto scegliamo freccia su, poi, torniamo in variabili, e prendiamo, cambia la mia variabile di 1, quindi premendo sulla freccia su, aumenteremo il valore della variabile, quale variabile però deve aumentare? non la mia variabile, devo aumentare la variabile velocità, facciamo in questo modo, cambierà la velocità di 1, poi, facciamo tasto destro, come prima, duplichiamo il tutto, facciamo la modifica in freccia giù, e a questo punto dovrà diminuire la velocità di 1, e in questo modo. Attenzione però, noi abbiamo definito una variabile, tanto che questa variabile adesso è a 0, e poi aumentiamo e diminuiamo, se io vi faccio notare, guardate cosa succede, adesso io premo la freccia su, aumenta di 1, vedete, di volta in volta, adesso la velocità è a 4, 5, 6, 7, 8, e così via, e con la freccia giù, invece, vedete, che man mano che premo la freccia, si illumina, torna, naturalmente va anche, volendo, valori negativi, ma andando a valori negativi, in questo caso a noi non interessa, dove, adesso però, dobbiamo anche definire, come abbiamo detto, la velocità iniziale, che la definiamo, quando noi premiamo la bandiera verde, quindi qui, non all'interno del per sempre, ma tra la bandiera verde, e il per sempre, Allora, utilizziamo il blocco porta, lo mettiamo qui all'inizio, non conta in questo caso l'ordine, scegliamo la variabile velocità, e gli diciamo che vogliamo che partano a una velocità di 10, perfetto, se noi facciamo partire, qui si imposta, premo il pulsante, vedete che la velocità, la variabile va su, ma la palla chiaramente non cambia, perché non cambia? Beh, semplicemente perché, non gli abbiamo detto di utilizzare, il valore che è contenuto all'interno di questa variabile, e come facciamo? Beh, dov'è che noi andiamo a definire, la velocità, l'abbiamo detto prima, in fai 10 passi, se noi aumentiamo il numero dei passi, aumenta la velocità della palla, e quindi dobbiamo utilizzare un po' il trucco che abbiamo usato, con sta toccando bordo, numero a caso, cioè al posto di questo 10, dobbiamo utilizzare la variabile velocità, vedete che ha proprio la forma che ci richiama di utilizzarla in questi contesti, allora noi prendiamo la variabile velocità, stesso trucco di prima, vedete che si illumina, lascio, a questo punto, fai velocità passi, cioè, fai ad esempio, 18, che è il valore che è contenuto in questo momento in velocità, fai 18 passi, se noi facciamo partire, vedete che la palla è già più veloce di prima, scusate, è a 10, se noi aumentiamo, vedete che la velocità aumenta, è a 18, aumenta ancora, la porto su, vedete che è a 38, adesso sto facendo la velocità 38, in questo modo, ok, se premo la freccia, mi sposto con lo script qui in basso, così vedete, freccia giù, adesso premo la freccia giù, vedete che si illumina la freccia giù, pian pianino la velocità sta scendendo, ed ecco che torniamo ad esempio, man mano, si riduce la velocità, ecco qui un altro modo, quest'ultima parte naturalmente da fare come ultimo step, diciamo con i ragazzi un po' più esperti, cercando di parlare anche in maniera molto semplice di cos'è una variabile.